Su un'auto di lusso viaggiava a carico di droga e con due pistole clandestine. Per questo è finito agli arresti un cinquantenne palermitano, ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di armi clandestine e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso alle prime luci dell'alba dagli agenti della polizia di Messina, che nell'ambito di specifici servizi antidroga predisposti dal questore Annino Gargano stavano pattugliando la zona. I poliziotti delle volanti lo hanno fermato sul viale Libertà, nei pressi degli imbarchi. Sin dai primi accertamenti è emerso che il cinquantenne era un pregiudicato e che l'auto su cui viaggiava era priva di copertura assicurativa. La successiva perquisizione, personale e veicolare, ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di droga e di due armi con munizioni nascosti nell'intercapedine di uno sportello. Le due pistole, prive di matricola esterna e complete di caricatore e cartucce, erano conservate in due involucri di plastica e sottovuoto, mentre in un terzo involucro erano celate le munizioni. Nascosti tra passaruota e paraurti, e all'interno di entrambi gli sportelli posteriori invece sono stati trovati 360 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, per un totale complessivo di oltre 36 chilogrammi. Gli agenti delle volanti hanno proceduto ad arrestare il cinquantenne in flagranza di reato e su disposizione dell'autorità giudiziaria a condurlo presso la casa circondariale di Messina Gazzi.